E' arrivato, appena preso in edicola andiamo subito a casa a spacchettarlo Eccolo qui, con questo bellissimo formato quadrotto, che meraviglia Flash Gordon, uscito oggi in edicola, lo vediamo per la prima volta insieme Ma prima di andare a vedere Flash Gordon, volevo dirvi una piccola cosa Come avrete notato, non sto facendo molti video in presenza E proprio ieri qualcuno mi ha scritto Ma perché non fai unboxing, dove fai vedere le chicchie comprate al mercatino, eccetera, eccetera E in effetti è arrivato tantissimo materiale qui in soffitta Purtroppo, per motivi di tempo e dovuti a impegni lavorativi Non mi è possibile sempre fare video in presenza Come già sapete, mi ricico in tanti modi Cercando di essere sempre presente sul canale A questo proposito, però, continuate a seguirmi Perché è un mio desiderio quello di tornare a mostrarvi le chicchie E quindi partiamo subito da questa Un appuntamento imperdibile Io sicuramente la farò perché è settimanale Ed uscirà per 20 settimane Di che cosa sto parlando? Sto parlando del Flash Gordon di Dan Barry Attenzione! Non è il Flash Gordon quello degli anni 30 Di Alex Raymond, il creatore di Flash Gordon Ma sono le strip pubblicate negli anni 50 Per intenderci quelle distribuite dalla Kingfisher Syndicate Pubblicate negli anni 50 sui quotidiani statunitensi Bellissime! Sono altrettanto belle come quelle di Alex Raymond Sono meravigliose Questa è una raccolta che si chiama Strip I grandi classici del fumetto americano Sicuramente proporrà altre cose E io non vedo l'ora sinceramente di collezionarle Come dicevo, uscirà settimanalmente Costa 6 euro 5 euro e 96 euro Ecco, una cosa che toglierei sicuramente Questo 5,90 Basta, avete rotto Cioè, no Scrivete 6 euro Perché mi sento un pochino preso per il culo Se leggo 5,90 Ma sto cazzo di centesimo Vabbè Questo sempre per quel famoso fatto Della soglia psicologica Che non deve Ma vabbè 6 euro 6 euro a settimana Che è anche un buon prezzo Secondo me Perché sono 96 pagine 98 Contando anche La prima, la seconda, la terza e la quarta di copertina Sono 98 pagine Anzi, se comincia da pagina 1 Sono 100 pagine Pagina 2 Sì, comincia da pagina 1 Quindi sono 100 pagine In totale Bianco e nero Formato brossurato Quadrotto Come avete visto Bellissimo Vi faccio vedere anche i disegni Naturalmente Che sono meravigliosi Qualcuno mi ha scritto Vabbè qualcuno Uno su tutti Mi ha scritto Sebi Mi ha scritto Ma secondo te Tu la consigli La devo prendere E io ho risposto Sotto quel commento Sì Se ti piace L'arte E la letteratura Lo devi Assolutamente Avere Perché qui Parliamo di Appunto di Arte E letteratura Fresh Gordon E quella Fusione Fresh Gordon Come tanti altri rumetti E quella Fusione Perfetta Tra l'arte La narrativa E la L'arte E la narrativa Bellissimo Rispetto a quello Di Alex Raymond Che cosa ha Quello di Dan Barry Soprattutto Un linguaggio Diverso Voi ti ricorderete Quello di Alex Raymond Addirittura i primi Erano di Dascalici Veniva proprio Raccontato Come un romanzo Qui invece E un po' Più veloce Ci sono più Dialoghi Perché siamo Negli anni 50 Veloce Per quello Che potevano Essere i fumetti Le dinamiche Del fumetto Degli anni 50 Naturalmente E in bianco E nero E in formato Strip Come vedete Sono state Montate Tre strisce Su ogni pagina Leggibilissime Il formato Mi piace Tantissimo Ripeto E Fatta Molto bene Questa pubblicazione Ricorda quelle Che hanno Che hanno Già pubblicato In libreria Quindi Va Benissimo E Dicevo Il bianco e nero Il formato Ma anche Le tematiche Che si spostano Un po' Dal Dal Fantasy No Quello 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 Alex Remo Quello Fantafantasy Fantascientifico Di Remo Si spostano A una Fantascienza Un po' Più Più Fantascienza Poi Mettiamo sotto La traduzione Per Quello Che ho appena Detto Consigliato Dalla Soffitta Di Pippo Mi raccomando Che state ancora Qui A guardare Il video Andate In edicola Se no Finisce E andate a prendere Flash Gordon Il primo numero Se Ah per tutti quelli Che mi chiederanno È una storia completa No Non è una storia completa Infatti c'è scritto Continua Sul prossimo numero Quindi Per leggere Flash Gordon Non È inutile Prendere Solo il primo Eh prendo solo il primo No Cioè Prendeteli Prendeteli tutti Almeno per avere Diciamo La storia completa E Perché Ne vale La pena Provare Per credere Prendetelo Provatelo E fatemi sapere In un commento Che cosa ne pensate Se ancora Non siete iscritti al canale Mi raccomando Iscrivetevi Per rimanere Sempre aggiornati Sui miei contenuti Magari Abbonatevi Perché Abbonandovi Non solo Sostenete la soffitta Ma avrete accesso Tanti contenuti Esclusivi Se questo video È piaciuto Condividetelo E Ci vediamo Alla prossima Sempre qui Sulla soffitta Di Pippo Ciao Mi raccomando Correte Delicola Comprare Flash Gordon Di Pippo 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 Di Pippo